Questa è la visione che ci muove, che ha ispirato le scelte che abbiamo adottato fin qui. Penso allo stop al cibo sintetico, noi siamo la prima nazione al mondo ad averlo fatto e siamo orgogliosi di poter essere un modello da seguire anche su questo. Penso anche al Fondo per la Sovranità Alimentare, all'investimento sull'innovazione, al sostegno alla nuova imprenditoria agricola, al Fondo per le Emergenze, istituito con l'ultima manovra per coprire più velocemente i danni subiti in caso di eventi climatici estremi o penso alle importantissime risorse che siamo riusciti a liberare attraverso la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che proprio di agricoltura si occupa prioritariamente. E quest'ultimo è un risultato del quale andiamo estremamente fieri perché ci ha permesso di mettere a disposizione dell'agroalimentare oltre 2 miliardi per i contratti di filiera e 850 milioni di euro per l'agrisolare. Misure per fare in modo che le nostre imprese agricole italiane siano sempre più forti, più competitive e più sostenibili. Con questo stesso approccio abbiamo difeso il ruolo strategico dell'agroalimentare e delle realtà agricole italiane in sede europea. Con un grande lavoro di squadra siamo riusciti a far emergere il buonsenso, a ottenere posizioni più equilibrate rispetto ad alcune proposte iniziali della Commissione europea su dossier molto importanti, penso ai fitofarmaci, penso alle missioni industriali, penso agli imballaggi. Voglio ringraziare il Ministro Lollobrigida e tutti i colleghi di governo che hanno seguito questi temi con grande attenzione, ci hanno permesso così di ottenere questi risultati. E su questa strada vogliamo continuare a camminare perché l'agricoltura è ricchezza, identità e sviluppo, ma è anche qualcosa di più. Ce lo ricorda e ce lo insegna uno dei nostri più grandi antenati, Cicerone, che diceva di tutte le arti dalle quali si ricava qualche profitto, nessuna è migliore dell'agricoltura, nessuna più redditizia, nessuna più dolce, nessuna più degna di un uomo e di un uomo libero. Grazie a tutti davvero, grazie a Confagricoltura, grazie al contributo che date ogni giorno per rendere questa nazione orgogliosa di se stessa e capace di essere all'altezza della propria storia anche nel futuro. Buona Assemblea.